ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e la devi guardare la e benvenuti nel nuovo di questo video e soprattutto iscrivetevi al canale come diciamo noi perché si devono iscrivere al canale perché sono benvenuti si sono sempre benvenuti e perché la gente si deve iscrivere così vede tanti video che facciamo noi vero certo e adesso ho sede si ora bevi l'acqua e tanti svuota la spesa si perché noi andiamo sempre all'euro spin questa è un'altra svuota la spesa euro spin vero perché abbiamo dovevo comprare un po di verdure è quello che sono riuscita a trovare ho preso non c'era niente praticamente forse non era giornata di rifornimenti di verdure comunque va bene prendi l'acqua poi vieni qua 29 euro e 82 centesimi raga abbiamo speso questa è la busta abbiamo le buste nuove di euro spin cioè nuove nel senso nuove perché papi se ne prese due non una ben due quando ha andato a fare lui la spesa sera non far casino che cosa abbiamo comprato allora post vacanza c'erano così tanto mancati che li ho trovati a euro spin e comprati i pasticciotti le cesi questi sono cinque wow chissà se sono davvero buoni come quelli che abbiamo mangiato li pasticciotti alla crema ma papi li metti a congelare però ti dirò che uno lo possiamo uscire vero papi anche uno poi leggere gli ingredienti come due che ingredienti non è che ingredienti non è che ingredienti 15 minuti no e non io non riesco a leggere niente devi uscire prima devi uscire tu devi vedere tu sta venendo il bambino questo è il posto del bambino non è a posto tuo lo svuota la spesa è di rioncino ecco dunque papi tu metti a posto ecco fredda la birra fresca fresca si è preso papi bravo papi anche l'acqua il bambino è bevuto bravissimo allora usciamo mamma da questa busta cosa abbiamo preso prendi la pasta le orecchiette queste sono al grano arso siccome ho voglia di pasta e quindi oggi non ho mangiato questa qua a me piace la pasta fresca quindi ho trovato questa della mia amo essere e l'ho comprata tiri papi lo puoi mettere in frigo l'abbiamo pagata 1 euro e 29 anche il gelato vai amore esci sì pecorino per mamma domani faccio le zucchine che ho comprato anche le zucchine solo con la panna l'ha preso papà già e dobbiamo farlo svuotare la spesa papi che cosa il gelato è gelato solo con la panna prendilo e pecorino questo stava in offerta dove sta dove sta aspetta amore pecorino 2 euro e 19 anche se io ricordo che lo pagavo di meno boh acqua d'acqua bevi così hai finito vabbè devo prendere mamma la spesa e dai scusa mi sono distratto eh non l'ho notato che vuol dire prima lo dici poi dici che vuol dire che stavi facendo un'altra cosa mentre mamma ti stava facendo fare lo svuotare la spesa ma ti fa acqua carne macinata di nuovo che c'è vabbè stiamo facendo lo svuotare la spesa non devi toccare l'acqua quando la bevo di nuovo l'avevi bevuta prima avevi detto che avevi sete certo ok carne macinata in offerta speciale l'abbiamo pagata 2 euro e 67 centesimi o per fare la pizza di canno per fare una lasagna l'ho presa queste cose mamma un avocado un avocado molto molto aspro sicuramente verde ma erano tutti così alcuni erano morbidi sotto acqua verdi no ho detto lo prendo al massimo tutto verde così magari si matura tutto insieme speriamo 99 centesimi costava in offerta l'uno piselli finissimi da mettere in congelatore compriamo vedi tra le verdure ho preso anche i piselli bene mamma dai prendi quello che stai ecco qua aspetta papi gelato alla panna questo era in offerta un euro e 99 anziché prendersi mo tutti i gelati quelli confezionati e ho detto prendiamo questo che comunque alla panna e basta dopo pranzo lui vuole un po di gelato e lo metto io nella bicchiere così calibro benedoso io quando le mangio dopo le cene pure dopo il pranzo oh sì certo lì sotto alla milanese l'ho preso tanto per tenere la dispensa poi vediamo se capita veloce veloce non so che fargli gli faccio quello la velozata con succo e carote che ce la siamo mangiati l'altra sera perché papi la comprò in offerta prima di andare in vacanza l'abbiamo mangiata rientro che se l'hai mangiata l'ion gli ho messo anche il formaggio sopra e ho detto beh vuoi sentire le zucche ancora non ce ne sono gliela faccio così e mangio almeno la zucca e la carota salute no questo è minestrone mamma così faccio anche un bel minestrone non è bello perché sono tutte queste cose piccole piccole ma tanto io poi lo passo glielo faccio un po' di ehm come si dice si ha passato di verdura e quindi se lo mangia così col formaggio sopra chiaramente parmigiano ecco questo me l'ho potuto prendere per me ma che è successo amore qualche allergia a qualcosa che tocchi eh amore non toccare il massino no 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 è l'allergia eh sì è l'allergia e vai dentro vai ehm maxi burger le ho presi così a spizio eccomi qua ehm non fare spaventare i cani ehm basta le pennette ehm mezza penne di piecosa qua stava finendo la pasta e quindi ho detto prendiamo questa e l'altra tre ehm zucchine che ho pagato 89 centesimi sì no le mezze penne 89 le zucchine le abbiamo pagate vediamo vediamo dove sono 98 centesimi tre vabbè le farò con la pasta domani e mi faccio col pane ecco l'altra pasta fosilli che poi qua si sono sì fosilli bucati fosilli bucati ecco queste sono le mie verdure che mi piacciono queste qua mix di verdure al vapore sono più che altro i cavoli che non trovo questo periodo e quindi ecco più e le ritrovate dicevo e le ho prese tieni proprio perchè perchè pensieri a papi abbiamo trovato anche questa questa cosa è una crossata buona per le colazioni crossata integrale era molto buona questa con mandarino bergamotto e limone della linea addolciando non le troviamo sempre queste cose integrali quando fanno diciamo una settimana lo speciale integrale si trovano e quindi stava lì da sola in mezzo a una cosa di offerte e l'ho presa insalata per papi si è presa questa insalata poker mista croccanti buone però tagliate così sono buone pure nei panini e tre bottiglie di acqua come questa fai vedere però questa è quella che avevamo già in frigo fredda tre bottiglie no 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 lascia lascia ma abbiamo fatto vedere questa tre bottiglie soltanto perché ce ne abbiamo ancora un pochettino quindi le ho prese stavano sfuse così aperte dalla cassa e le ho prese ok ecco i cani che stanno facendo un po' di show cocco chanel e poi sempre chanel quella che sfotte shiny vabbè Dionna non si beve così ok alla bottiglia al bicchiere la bottiglia è piena devi bere al bicchiere ecco perché così non ti sassi mai non ti disseti se non ti disseti quindi poi vuoi sempre bere aspetta se è poca lascia se è poca adesso non è poca si beve al bicchiere se è piena va bene vieni qua abbiamo finito questa spesetta diciamo spesuccia però più che altro roba da verdure un po' di pasta queste cose così da tenere insomma questa settimana per il cibo di questa settimana adesso prepari la pizza adesso prepari la pizza devi aspettare si prepariamo la pizza no io non voglio aspettare fa perché ho fame oggi non ho mangiato oggi ho mangiato soltanto con il look dei poveri quello dell'Eurospin quindi il mio bambino cosa li prepariamo oggi? la pizza pure mamma la pizza come la mangi? la piadina come te la mangi? la piadina come te la mangi? salsa e panna salsa e panna adesso la fa papà e la mozzarella? no no mette la panna mettiamo i cubetti di prosciutto a patto? si ora che apre Carlo andiamo di nuovo a mangiare la pizza da Carlo? si ok oggi o domani no la prossima settimana perché? ok apre Carlo e noi andiamo io e Leon e Papi va bene? certo ok e chi paga? papi chiaramente come? anzi no mamma chi paga? chi paga? paga Leon io aspettiamo allora che arrivano i soldi di Leon va bene allora da questo video è tutto vero amore? ciao e dai salutiamo ciao e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao